Io ho fatto tre anni di opposizione e oggi, dopo dieci mesi, devo dire che lezioni di teatro ne ho avute tante in questi anni. Lezioni di teatro perché, come vedete, è il contenuto della consigliera Baglio che fa dei discorsi alla Charlie Chaplin, ma poi alla fine il contenuto è quello, vedete, si riduce a un pezzo di carne. Questo è il contenuto del Partito Democratico. Ma non ci vogliamo abbassare a questo, vogliamo andare nei contenuti. Loro parlano di un piano di rifiuti, loro il piano di rifiuti ce l'hanno avuto, Malagrotta. La discarica di Malagrotta, la discarica più grande di Europa, dopo venti anni, ormai satura e non chiusa dal Partito Democratico, ma chiusa da un'infrazione europea e grazie ai cittadini che con forza hanno richiesto all'Europa di intervenire, oggi possiamo dire che Malagrotta è chiusa e non grazie a Marino. Una discarica che porterà un inquinamento ambientale per le prossime generazioni, parliamo di tre, quattro, cinque generazioni, forse ci vorranno trent'anni, sessant'anni, affinché quel territorio possa respirare aria pulita. I bambini escono la mattina con il nodo alla gola. Le donne hanno problemi al seno, perché Malagrotta è una delle zone più inquinate d'Italia e qui ridiamo, qui scherziamo e parliamo anche di pezzi di carne. Qualcuno deve pagare per questo e qualcuno pagherà per questo. Parliamo del salario, parliamo di rocca scienza, altresì zone altamente inquinate, dove è stata creata un'impiantistica ad oggi datata ed obsoleta, come già ho detto in un mio intervento, impiantistica creata e costruita nei pressi di Asilinido, nelle scuole dell'infanzia. Bambini che anche lì sono costretti a respirare miasmi e questo era il piano dei rifiuti. Un piano dei rifiuti centrato sull'indifferenziato. Tutto andava in una grande bucha e tutto veniva incenerito e così risolvevamo il problema, con diossina, con problemi ambientali e con problemi della falda. Questo era il loro piano dei rifiuti. Ad oggi invece è stato presentato un piano dei rifiuti importante, completo, sostenibile, presentato dalla nostra Assessora Montanari. Un'aggiunta di qualità, di competenze, di spessore, a differenza degli anni passati, dove venivano chiamati e nominati gli amici degli amici. Fatemelo dire. Oggi ci troviamo con poche cose. Ci chiedono di fare il massimo per questa città. Ci chiedono di preparare la torta più buona del mondo, ma con pochi ingredienti. Infatti ci hanno lasciato 177 operatori del verde a fronte dei 2.000 operatori dagli anni 90, parlando del servizio Giardini, dove appena è scoppiata mafia capitale è scopparso un computer. Dio solo lo sa. Ci ritroviamo con un terzo dei spazzini di Ama. Ecco, vedete, io giorni fa ho incontrato un lavoratore che diligentemente pulisce la nostra città e mi ha detto «Ragazzi, andate avanti con forza, per ricostruire questa città ci vorranno 20 anni, come minimo 20 anni. Questa città è stata distrutta, depauperata, disintegrata dai partiti». E noi stiamo facendo in modo e in maniera di ricostruire questa grande capitale dopo uno tsunami che ha devastato questa città. Ci ritrovavamo nelle sale del Campidoglio, dove cheggiava un mantra, un mantra che è stato sollevato dal 2013 ad oggi, un mantra di nome mafia capitale. Ecco, questo mantra ha scosso il Palazzo e oggi questa amministrazione con forza sta rimettendo tutto in riga, sta rimettendo in riga mettendo a bando gli appalti, non facendo affidamenti diretti e marchette che venivano fatte negli anni passati. Prima venivano fatte le strisce pedonali con l'inchiostro simpatico, si cancellavano dopo poche ore, si coprivano le buche e dopo una settimana le buche si riformavano. È stata fatta un pieno di raccolta differenziata anomalo, come già abbiamo detto, una raccolta differenziata che sette anni fa è stato fatto con un progetto pilota importante, dove si è arrivati a un 70% di raccolta differenziata e ad oggi ci ritroviamo con un 30% scarso. Questo grazie al piano dei rifiuti presentato dalle passate amministrazioni. Ci ritroviamo con, facendo riferimento anche al Consigliere che era, con delle stalle a Villa Borghese costate 1.300.000 euro di fondi pubblici, oggi sequestrate. Ci ritroviamo, come abbiamo detto, con un servizio giardini depoperato e la politica doveva controllare, dove è stata. Perché ha svilito le forze di questa amministrazione che oggi con forza ci chiedono di risollevare. Lo stiamo facendo e lo faremo. Abbiamo scoperto la terra dei fuochi romana a centocele, nessuno ne sapeva nulla, nessuno ne era a conoscenza che lì sotto, interrati, c'erano cumuli e cumuli di rifiuti. Oggi vediamo i manifesti e le interrogazioni, ma da vent'anni a questa parte chi ha fatto interrogazioni e manifesti? Io non li ho mai visti. Si parla di derattizzazione? Perfetto. Ci siamo ritrovati con un contratto di servizi dove la derattizzazione non c'era. Un servizio importante per l'Igiene urbana, spazzato via, con dei municipi che negli anni passati, nel 2015, hanno utilizzato poco più di 250.000 euro con altri 250.000 euro che rimanevano, che sono stati poi rimandati indietro al Dipartimento. Questa era l'efficienza del centro-sinistra e del centro-destra. Ci siamo ritrovati in Villa Massimo, una villa chiusa, concessioni e convenzioni scadute da venti anni, affidamenti diretti a ditte che non si conoscevano nomi che facevano appalti poi successivamente subappalti. Vedete, io rimango basito ancora per la tracotanza di questa opposizione che fa finta di fare interventi di contenuto e di spessore, ma poi dopo sentiamo Risolini dove il rispetto manca. Devo dire che la politica, se gli atti che hanno presentato da vent'anni a questa parte sono stati quelli che hanno ridotto questa città in questo modo, era meglio che non li presentavano. E finisco con una frase, Presidente, una frase di Charlie Chaplin. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. State sereni.